Un uomo nella mia posizione spesso viene contattato da persone interessanti. Vi presento Sveta. Sveta, questi sono Dana Skelly e Fox Mulder. Salve. Ciao. Buongiorno. Benvenuti a casa mia. Sveta mi ha suggerito di chiamarvi. Lei come fa a conoscerci? Magari lei non ricorda me. Mi ricorderei se l'avessi vista. Ha interrogato me e mia famiglia da piccola. Dopo il mio primo rapimento. Prego, accomodatevi. Ho queste da circa vent'anni. Probabilmente riconoscerete le classiche cicatrici a forma di cerchio. Quante volte sei stata rapita, Sveta? Ho perso conto per colpa di ricordi schermo che mi hanno impiantato. Sono i ricordi fasulli che impiantano su quelli reali per nascondere il rapimento. Ho familiarità con la sindrome. Non sono sempre efficaci. Ci sono cose che mi tornano a mente. Che genere di cose? I test che fanno, i prelievi e altre cose. Gli alieni ti hanno messo incinta? Lo hanno fatto molte volte. Ma prendono bambini prima ancora che nascono. Questi ricordi non riescono a rimuovere. Quindi prendono il feto prima della nascita? Da qui. Fanno tutto da qui. E anche con DNA. Digli tutto, Sveta. Io ho DNA alieno. Sono sicura. Ti sei mai fatta visitare da un medico? No. Tu potresti fare delle analisi. Non credi? Presto, presto! Grazie.